E' stato un'esperienza che ha avuto alcune grazie grandissime che riscopro leggendo questo libro. Prima di tutto io ho seguito la scia dei preti operai negli anni 70. E' stata un'esperienza grandissima anche alcuni preti operai di questa diocesi che sono stati di grande luce perché l'esperienza del mondo operaio, delle fabbriche, mi ha dato la coscientizzazione che i lontani, le persone che in chiesa non vanno ma hanno dentro un cuore grandissimo, hanno dentro una capacità di cercare Dio, di essere cercatori di Dio, estremamente grandi. Ed è bello, guardate, la saggezza di chi suda, di chi ha fatica, di chi lavora, di chi lavora sotto padrone. Io ho imparato lì, sono figlio di contadini della Val di No, della Mela Melinda, non si può non parlare un po' di pubblicità della Mela Melinda, no? L'avete visto in televisione. Però al di là di questo io ho imparato veramente cosa vuol dire mondo del lavoro negli anni in cui ho lavorato a Porto Marghera prima e poi a Verona una grande ditta, che ha la Biasi che fa termosifoni e caldaie. E mi ha aiutato tantissimo i turni, l'ambiente difficile, la polvere, il rumore soprattutto. La cosa che mi ha, una fondere a tutti i rumori, abituato alla realtà studentesca a metà della teologia, ci hanno dato questa esperienza ed è stata estremamente arricchente. Perché ho capito, come appunto Don Contiero allora si sente questa esperienza, quanto vale. E mi ricordo anche la delicatezza di questo mondo operaio apparentemente rude, in realtà dolcissimo. Un giorno all'inizio io non riuscivo a fare, noi dovevamo fare un pezzo ogni 20 secondi. Fate conto, tre al minuto, moltiplicate per otto ore e mezzo, mondo sindacale, fate conti, ricordate il film di Charlie Chaplin, no? La sera ti veniva in mente, non riuscivi neanche a dormire, perché era tale l'abitudinarietà, tre pezzi al minuto, 180 all'ora, eccetera, moltiplicate per otto ore e mezza, la sera non ce la facevo all'inizio, non avevo l'allenamento. Ora, vicino a me c'era un operaio rude, bestemmiava spesso, eccetera, però attentissimo, un giorno lui aveva già finito i pezzi. Quanti ne devi fare? Ancora 200. Ma non ti preoccupare, 100 te li faccio io. E si mise, lui ha ripreso, ha riacceso la macchina, ha sistemato e li ha calcolati sul mio conto, per dire uno dei tanti episodi. E veramente vedi che la mano di Dio opera in tantissime persone, lontane apparentemente dalla fede, in realtà vicine. E la stessa cosa il sud. Il sud mi ha plasmato, sono arrivato al sud tra mille fatiche e problemi, poi in realtà ho capito il sud. Avete visto quel film Benvenuti al sud, forse, no? Nel sud si piange due volte, quando si arriva e quando si parte. Io l'ho provato, è veramente così. Quando si arriva e quando si parte. Vi dico anche quando si arriva con un episodietto simpatico che vi farà molto sorridere, ma che vi dà l'idea di quello che in realtà è il sud, attraverso un'immagine. Io ho conosciuto il sud in liceo, ci hanno mandato l'estate a fare un'esperienza simile a quella dei viaggi estivi di cui parla Contiero, a sistemare a Catania un luogo, un sito dove doveva costruire una chiesa. E lì c'era la lava, tutti i problemi, il sole, però ho incontrato il mare, ho imparato a nuotare, eccetera. Un giorno siamo andati col treno da Catania a Taormina, poi dovevamo salire su. Chi conosce, è un giorno caldissimo durante l'estate e fai da sotto a sopra, la strada è molto lunga, a piedi, sotto il sole. A metà strada, assetati e stanchi e sudati, notiamo dei frutti, tutti del nord, nessuno mai era stato al sud. Eravamo lì da pochi giorni, notiamo frutti strani, bellissimi, un po' spinosi, a dire il vero. Però ci siamo avvicinati, abbiamo tolto le spine più grosse, poi quelle altre le pensavamo innocue e abbiamo cominciato a mangiarli. Si può immaginare i fichi d'India, sono cocentissimi in bocca. Quando poi ci ha visti così atrocemente doloranti un ragazzo che passava di lì, si è messo a ridere e a dire ma siete proprio matti. Ma non sapevamo, non avevamo idea. Ora lui si è avvicinato col suo temperino, ha preso un fico d'India, lo sapete bene, l'ha tagliato alle parti laterali, poi per lungo e ce l'ha offerto, tagliato. Ecco, guardate com'è dolcissimo. E da lì ho capito cos'è in fondo il sud. Il sud può avere due volti, anche oggi, ma non solo il sud. L'altro può essere uguale. Cioè tutto dipende da come lo sai prendere. Se tu lo guardi il sud in un certo modo diventa difficile, diventa complicato, diventa tratti anche pungente. Il sud non è facile da capire. Però una volta che l'hai capito, come dice quel film, una volta che sei entrato nella giusta correlazione, diventa dolcissimo. Perché ha dei valori e delle realtà che ti plasmano e che ti cambiano il cuore. Ecco, il sud del mondo o il sud Italia, nei libri di Contiero, sono sostanzialmente simili. Cioè lui ha voluto dire, se tu lo studi non puoi capirlo, se tu lo incontri, certo come lo incontri. E capite bene che la parabola del fico d'India non è solo per quanto riguarda nord e sud, ma è anche tra di noi. Come guardi l'altro, il collega di lavoro, come guardi la tua famiglia, la persona che incontri. Se tu lo sai prendere nel verso giusto, ognuno di noi tira fuori la parte più dolce, più bella, più amante, più vicina. Se invece tu lo guardi con ostilità, è chiaro che ognuno di noi tira fuori le spine. È identico. La parabola del fico d'India è la parabola delle relazioni sociali. Tutto dipende da come noi sappiamo relazionarci con l'altro. La stima, l'accoglienza, la dimensione di ascolto, la capacità di farsi interpellare, di donare e di essere aiutato a crescere, che fa scoprire una dolcezza anche in ambienti difficili. Ecco, il sud del mondo per Don Contiero non era il fico d'India pungente, ma era il fico d'India dolce, che però ci ha insegnato che quello che tu hai vissuto lì, attraverso quel racconto, lo devi vivere poi qui. E qui è la grande lezione, anche oggi, di correlazioni sociali. E voi capite bene che in questa dimensione ho scoperto, ad esempio nel sud, una prima parola dolcissima che crea un po' la cultura, non solo per questa realtà, ma è presente in tutti i cuori, profondamente segnati anche dalla povertà. La prima parola che ho imparato di linguaggio calabrese lo imparai in treno. Partendo dal Trentino per arrivare in Calabria, la strada è molto lunga, poi i treni di allora erano ancora più lenti di quelli di oggi. Siamo partiti, eravamo in due studenti, con tanti libri, valigie, eccetera, ma praticamente quasi nulla per il viaggio, per mangiare un boccone. A un certo punto invece vicino a noi, nello scompartimento, c'era creata quella fraternità che oggi non si crea più, perché con le frecce rosse guai parlare, guai non puoi parlare. Ognuno ha il suo telefonino, ma non ha più il dialogo con le persone davanti. No, è molto triste questo modo di viaggiare oggi. Vabbè, comunque, in questa dimensione una mamma che stava davanti a noi vide la nostra fragilità e capì che le cose andavano risolte. Lei aveva un bambino di 12 anni e preparò il pane, ma lo preparò prima per noi due, poi per suo figlio. Capite, questo è il sud, il primissimo impatto nel viaggio. E ci disse una parola meravigliosa che mi ha fatto capire cos'è il sud. Ci ha offerto il pane, ci ha detto, chiede il sud, qua lo sa benissimo, favorite, favorite. Guardate che è una parola bellissima, favorite. perché lì ho capito cosa c'è dietro, non ci ha dato gli avanzi, non ci ha dato quello che era avanzato, ma ci ha dato il dono più bello che lei aveva. La parola favorite, io la ritengo, la parola chiave dei rapporti nord e sud del mondo. Come le lacrime, come le ferite diventano feritoie, come il fico d'India, sono immagini che ho imparato, che sento che in questo libro, in fondo vuol dire, io ho un dono, non lo posso godere da solo, non lo posso tenere per me, ma lo devo condividere. Questo è il senso. Il sud del mondo è segnato e vorremmo che non solo il sud del mondo, ma tutte le nostre core... Capite che la lezione di vita è segnata da questi grandi messaggi. Quando spiegavo l'Eucaristia, io spiegavo sempre attraverso la parola favorite, perché l'Eucaristia non è altro che questa esperienza. E un giorno, sistemando una chiesetta in campagna, alcuni geniali architetti la ristrutturarono, poverissima, ma gli diedero una grande dignità e fecero come tabernacolo il forno del pane quando si cuoce la pizza, sapete, quello bianchissimo, con la porta piccolina ma visibilissimo, rotondo. Così quando tu entri, la prima cosa che vedi è questo tabernacolo bianchissimo, quella porta che ti invita. E quando l'hanno fatto, mi hanno detto cosa ci scriviamo sopra? E non lo so, dico, vedete un po' la Bibbia? Scrivete, io sono il pane di vita, queste cose. E allora mi hanno detto ma queste cose vanno bene per una cattedrale, per le chiese grandi, e che ci vorreste scrivere? Noi vorremmo scrivere sopra il tabernacolo favorite e favorite. Ma dico, ma siete matti, mi raccomando. Ma quando Gesù ha istituito l'Eucaristia ha detto, prendete e mangiatene tutti. E nel linguaggio nostro, cosa avrebbe detto? Favorite. E allora sopra la tabernacola di questa chiesa, sopra Bovalino, perché conosce un po' la Calabria, c'è proprio questa scritta favorite e favorite, che è il modo con cui Don Contiero incontrava le persone.